per insegnare al tuo cane a parlare inizia giocando con lui per un po in modo da farlo sentire eccitato e pieno di energie poi quando il cane è abbastanza carico prendi un bocconcino e tienilo in bella vista attendi che lo riconosca poi nascondilo rapidamente dietro la schiena l'animale dovrebbe iniziare ad abbagliare quando lo fa digli parla e dà lì il bocconcino per premiare il suo comportamento continua ad addestrarlo in questo modo tutti i giorni e inizia a non premiarlo più con il cibo finché non impara ad abbagliare a comando quando dici parla